Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video Qua chi è? Filippo Oggi sono qui perchè appunto scapperemo da questo Plump cake Non ho ancora capito cos'è Sembra un plump cake E ha anche una candela in testa Infatti questo è un escape room pauroso Prima di ciare lasciate un bel like E quindi iniziamo subito Ok eccomi qua Lasciate un like per portarmi fortuna Non sfraccellarmi di continuo E guardate il mio outfit Questa maglietta Tutto l'outfit come ieri Siamo in una strada Tutto buio Tutto buio qui Aiuto Dove sono? Bisogna andare qua dentro? Dov'è che siamo? Ah bisogna andare qua dentro Perché è lì lui? Aiuto 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 Allora qua bisogna stare attenti a A questo qua che ci insegue Veloce Scappa 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 nel tubo Oh aiuto Che ansia Lui è rimasto là Aiuto Buttiamoci giù Dove siamo? Qua è tutto buio Saltiamo su questi Cosi di ferro Cosa dice? Iscriviti Iscriviti al mio canale youtube Per far parte della family Qua c'è un altro Giocatore Per fortuna Perché se no Era super pauroso Stiamo attenti a questi laser Piano 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 Ecco Cosa è successo Ah quindi se ci sfraccigliamo Lui ci prende Aiuto Piano Il trucchetto è guardare da così Aiuto Ce l'ho fatta L'ultimo laser Per fortuna Saltiamo su questi pacchetti Forse bisogna andare là Bisogna andare Ma com'è che si fa salire là? Magari c'è una Qualcosa Sono salito sul muro Ma che cosa succede qua? Ok sono sceso Weee Ma come si fa? Ma Ma questo escape room Ma Ma Non lo so Qua cosa dice? Iscriviti al canale Sally Green Gamer Ma è super difficile Andare là sopra Ragazzi ce l'ho fatta C'era tipo Una scala invisibile Aiuto Piano Qua ci sono questi Che ci vogliono sfracellare Veloce Ma una candela in testa Ma non si brucia la testa Aiuto Che paura Veloce 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 Piano Piano Veloce 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 C'è lui lì Aiuto Ok ce l'ho fatta Ok ce l'ho fatta Per fortuna Mi ha preso Un sacco di volte Aiuto Scappiamo Scappiamo In questo tunnel Tutto buio Piano Cos'è che c'è Aiuto C'è una fogna C'è una fogna Aiuto Che schifo Piano Saltiamo su qua No Aiuto Ma questo è skip room E' super pauroso Piano Piano Anche di qui Piano Stavo per cadere Aiuto Ce l'ho fatta Scusate se si sente un po' di rumore Ma è Minou che sta mangiando Piano Se cado Guardate qua quanto è alto Che cosa sono questi rumori Piano Piano Mamma mia Stavo per cadere Piano Sì Ce l'ho fatta Qua è tutto buio Aiuto Un labirinto No 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 Di labirinti Mi perdo sempre Minou Ciao Forse di qua No C'è Magari Bisogna andare di qui No Qua è chiuso Di qua Di qui Di qui Aiuto Mamma mia se c'è qualche Come si dice Gem scare Che appare Da qualche parte Di qua forse No Aiuto Dov'è che è l'uscita Di qui Di qua c'è un'uscita No è quella di prima No Ma prima l'ho rifatto tutto da capo Aiuto Magari di qua Magari di qua No questa è quella di prima Di qui Magari di qua Giriamo No poi c'è C'è il piccolo C'è il piccolo Papà Ce l'ho fatta Sì Scappi Sì Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Sì Ho avuto il badge Ragazzi ho avuto il badge E quindi ragazzi Questo è escape room Super pauroso Dove c'era Questo umano Plum cake Super pauroso Ho anche La candela in testa Quindi ragazzi Il video finisce qui Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un sacco Mi piace E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao